Carro numero 9, il conte Dracula. Per colpa di Poggiolini sono passato dal sangue al vino, ma vi devo dire il vero, mi ci trovo proprio bene. Tutto il mondo ho girato, ho succhiato e risucchiato, ma a solo opaca mi son fermato. Con quel suo stupendo vino, bianco, rosso, rosato ed affini, senza analisi e provini, come bello tracannar. Qui è tutto genuino, non ti devi preoccupar, basta andar giù in cantina e la scorta ti puoi far. Ho portato anche i fantasmi con i gufi e i pipistrelli, mi hanno rifatto anche il castello, perché un film devo girar. Via Roma mi ha scritturato e dal volo accettato, ma quando la festa finirà, ho deciso, con loro dovrò restare. Il carro è stato presentato dal rione Via Roma. Il carro è stato presentato dal rione Via Roma. Il carro è stato presentato dal rione Via Roma. con questi suoi denti, i quali succhia sangue, in effetti non trovando più sangue da succhiare, preferisce succhiare dell'ottimo vino di Solopaca, anche perché, dicono i nostri amici in un loro dubliante anche perché non c'è più niente da succhiare qui in Italia mi sembra di capire in effetti dicono per colpa di Poggiolini sono passate dal sangue al vino ma vi devo dire il vero mi ci trovo proprio bene tutto il mondo ho girato ho succhiato e resucchiato ma a solopaca mi sono fermato con questo stupendo vino bianco rosina la scorta ti può fare ho portato anche i fantasmi con i gufe e i pipistrelli i pipistrelli mi ha rifatto i pipistrelli mi ha rifatto anche il castello perché un film devo girare e a Roma mi ha scritturato e al volo ho accettato grazie a tutti Grazie a tutti.